I borzoni Shikon sono molto confortevoli, noi li utilizziamo moltissimo per i nostri numerosi lunghi viaggi e sono molto molto sicuri. Non subiscono danni e questo qui è importantissimo, mi piacciono moltissimo anche i rivestimenti che stanno proprio in prossimità del manubrio e permettono alle leve di non essere sciopate e questo è veramente importante per me. Pikesafe Ride Pass A presto!